Ma guardi, noi oggi abbiamo di fatto rinnovato un protocollo di intesa che va avanti da oltre dieci anni che tende a valorizzare quelle che sono le produzioni, le eccellenze agroalimentari del nostro territorio valorizzando anche quelle che sono le botteghe di vicinato con l'intento appunto di coniugare la capacità di produrre le eccellenze enogastronomiche e agroalimentari anche con il turismo e quindi oggi siamo qui di nuovo a rinnovare questo protocollo di intesa con la regione toscana.